Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Il 12 giugno è una data che è entrata ufficialmente nella storia italiana politica e non solo, quella del decesso di Silvio Berlusconi. Nei giorni passati molti VIP e non solo hanno condiviso dei ricordi cari legati all'ex presidente. E così anche Alfonso Signorini si è lasciato andare con una confessione intima su Silvio. Era Alfonso Signorini, Silvio Berlusconi era come un padre, lo ha raccontato più di una volta, anche su Instagram nel giorno in cui fu annunciata la morte del cavaliere. Aveva condiviso una foto in cui era ad Arcore, seduto su uno dei divani di Berlusconi, insieme a Paolo Berlusconi, Mara Veniere e Marina Berlusconi. Davanti a loro dei calici di vino, ma soprattutto sui loro volti un sorriso grande, grandissimo, quello che solo le grasse risate possono suscitare. Sul settimanale, Chi Signorini ha voluto ricordare Berlusconi con un racconto molto intimo e dettagliato. Tra le confessioni, ecco la più commovente. Berlusconi gli fu vicino sia quando morì suo padre, sia quando morì sua madre. Quando io ho perso mio padre ricordo che lui stava a un matrimonio, mi chiamò qualche ora dopo e mi disse Non piangere, perché da oggi tu hai un altro padre. Per te ci sarò sempre e potrai sempre fare affidamento su di me per la vita. Ha mantenuto le sue promesse, fino all'ultimo. Come un padre è stato presente, vigile, affettuoso nei momenti belli della vita e in quelli più tristi. Nel suo post toccante si legge Oggi ti voglio ricordare così Nell'allegria di casa mia, tra tante risate, un buon bicchiere di vino e gli affetti di una vita. Con te perdo un secondo padre. Quel padre che mi hai promesso saresti stato quando ho perso il mio. Hai mantenuto quella promessa, fino all'ultimo. Grazie Presidente. Sempre con te. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.